Bella sui ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video qui sul mio canale Oggi come potete essere ritornati qui su Minecraft Ita, episodio 15 Ok raga, cosa andremo a fare in questo episodio? Allora, stando alla farm di pesca, quella lì Ho trovato un arco che è favoloso, almeno Era favoloso, però con gli potenziamenti che andremo a fare in questo episodio Diventerà ancora più bello, guardate Allora, sarebbero questi di qua, infatti ho trovato quest'arco, indistruttibilità Ma non ci interessa raga, quindi lo mettevo di lato Ed è qua, indistruttibilità 3, impatto 1 Infinità raga, ho trovato infinità, sono troppo felice Potenza 3, è fiamma Raga, diventa un arco potentissimo Raga, magari non metterlo qua, ok perfetto Aggiungiamo infinità Ed eccolo qua Potenza 3 Fiamma E mi si è rotta Raga, mi si è rotta davanti Vediamo se col ferro che ho preso poco fa riusciamo a fare il coso Allora, quanti ce ne servono? 3? 3 ho detto Ce ne servono 3 e ne faccio 2 Forse ci bastano giusti giusti Questi qua sono i pezzi che l'altra volta abbiamo lasciato in miniera E infatti, eccoli qua In culine E piazza da qua E devo andare a prendere l'altro arco Che sarebbe... questo con... Questo che ho lasciato là Nella cesta Lo conserviamo magari per qualche altra cosa Dove sta? Eccolo qua Ok, così ristauriamo tutta la... La vita del nostro arco E diventa un arco potentissimo, raga Vediamo così 32 E così invece 9, ok Indistruttibilità 3 Impatto 1 Infinità Potenza 3 E fiamma, raga Cioè, raga, bestiale quest'arco E neppure ho preso la... La freccia per provarlo Comunque, raga, ditemi se... Se vi piace E ditemi anche il nome dell'arco Che dobbiamo andare a mettere Ecco, qua la nostra bellissima fiamma E... allora, questo di qua Me lo tengo qua Mentre... Ah, raga, ho fatto poi lo smistamento cesta Non ve l'ho fatto ancora vedere Qua ho messo tutti i cibi Queste 3 ceste Dopo, qui tutte le cose vegetali praticamente Quindi qua tutti gli erboscelli E qua tutto il legno e i derivati Dopo, qui ho messo i drop Degli animali buoni Qui i drop degli animali cattivi E... i mob cattivi Qui quelli del nether E... qua dopo quella di buffering Perché è quella che non ci serve praticamente Qui le pozioni che me l'ha droppata la strega E... poi qua le cose importanti Come coal E qua metteremo le altre che ci sono dall'altro lato E... qua gli utensili E... dopo giù niente Niente in queste 3 Dopo qua cosa ho messo Qua neppure niente E dopo qui i blocchi E... da... da costruzione Qui tutta la cobblestone E qui invece tutta la terra Che in questo momento ne abbiamo pochissima Però... meglio di niente Allora E... dopo raga Vi... devo far vedere questa cosa Avete presente qua che c'è il nostro bellissimo mondo Tutto bello e carino Ok Se noi andiamo da qua Che qua ho fatto un bel po' di pulizia Perché... stava male E saliamo in questa collinetta Guardate qui raga Innanzitutto c'è sta grotta che è stranissima Ma dopo... saliamo Me ne sono accorto quando stavo... Ero qua che... barboneggiavo nel magazzino Ecco qua raga C'è stato un reset chunk Che cosa comprende il reset chunk? Ehm... beh... Determinati... ehm... Determinate volte di Minecraft Ehm... Succede questa cosa Questo reset Praticamente il chunk che c'era Viene sostituito con uno nuovo Questa cosa è una cosa grave Perché... Come è successo qua Poteva succedere anche nel portale del nether O nell'ascensore E io a quel punto... Anche in quel punto Mi arrabbiavo tanto 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 Perché raga Si disabilita il chunk Con tutte le sue cose È proprio una falla nel sistema Ehm... Infatti... Raga Ho copiato Il seed del mondo Guardate raga Ho diviso l'albero in due Ho copiato il seed del mondo Ehm... E ora vi farò vedere Nell'altro Nell'altro mondo Che non è così Guardate raga Una cosa è così Guardate E l'altra cosa è così Mentre l'altra è così Guardate raga Qui c'è tutto il coso Il... Il coso bello Non voglio spoilerarvi quello che c'è lì Quindi andrò in retromarcia Ehm... Perché è questo di quel mio mondo Dove... Dove costruisco le cose che devo portare E guardate raga Tutto qua non c'è Cioè... Nell'altro mondo non c'è Guardate Qui... Dove c'è il magazzino Ve lo faccio vedere così Di lato Là praticamente Che è quella di lei L'impalcatura che vorrei fare Dopo si sale da qua Guardate Si sale E boom Però qua c'è Mentre lì non c'è Quindi è una cosa davvero strana Che succede Una volta ogni morte di pa E quindi raga È stranissimo raga Davvero È una delle cose più strane Che può succedere E io sono preoccupato Perché come è successo qua Poteva succedere Dove l'ho detto Dove c'è il nether O l'ascensore Quindi è grave Se si ricetta Di un altro chunk Qua non so cosa fare Dopo qua raga Ho un pochettino spianato Infatti non è più Con il taglio lì Ma ho fatto questo sentiero Tutto qua Bellissimo E carino Ehm Qua Ve l'ho fatto vedere Dopo ho messo le crafting table Lì Ehm Ah raga Ancora non ho provato Il nostro arco Vediamo con qualche mob Ehm No con le pecore no E neppure con le mucche Perché mi interessano Questi due mob Mi interessano tantissimo E anche il maiale Perché oramai è la mascotte Però vorrei provare Se è shot Cioè vorrei vedere Su mob Se Se lo uccide Giusto giusto E giorno Ehm Perché a me Gli episodi di notte Non piace iniziarli Quindi Non so Il calamaro No no Ah ok Allora spariamo al coso Al porco Boom Raga Fantastico Raga E' qualcosa di meraviglioso Ottima mira Uuu E' da pure le costolette Già cotte Grandissimo Cioè raga Ma avete visto Quanto è bestiale Questa Eh vabbè Avete visto Quanto è bestiale Ha sciottato Quel maiale Da un chilometro Indistruttibilità Tempatto Un infinità Potenza Tre fiamma Cioè raga Noi abbiamo sbancato Ehm E vabbè raga Per questo appuntamento Anzi Vi vorrei vedere Questa cosa E cosa ho trovato Ovviamente Mi devo rompere Le gambe E raga Sto facendo Degli enchantment Sto trovando Degli enchantment Davvero divertenti E carini Per E per la nostra armatura E per la nostra spada Ci stanno E qua raga Ho trovato questo di qua Con E un'altra Due canne da pesca Una con fortuna 2 Che però Non ci serve Completamente L'altra invece Con fortuna del mare 2 Esca 2 Però c'è Maledizione della scomparsa Noi nella nostra canne da pesca Abbiamo Esca 1 Che sarebbe molto buono Però Ehm Si unisce Oggi ho provato Con maledizione della scomparsa Maledizione della scomparsa Se non erro Almeno Penso di ricordare così E serve Cioè Non serve E il problema E che se muori E ti Ti si distrugge Cioè Non esiste più Ehm Quel determinata cosa Dove è inserito Quindi Meglio evitare Ehm Qua Rob E' a posto E raga Perché Eh vabbè Direi che per questo appuntamento E' tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi rilascio il mio Ci è piaciuto questo video Condividerlo Spolliciate Commentate Condividete Ditemi Ehm Se Se questo arco Vi piace Ehm Come potrei potenziarlo Mh Ok Perfetto E' perché sto finendo l'episodio E quindi pure il minecraft E' triste Ehm Per questo E ho trovato comunque Dei belli Dei belli libri Anche Feather Falling A terreggio morbido Quattro Raga Quattro Quindi bestiale Questo di qua Lo mettiamo lì E chi si muove E raga Ci si becca un altro video Ciao ciao raga Alla prossima Ciao ciao